DS3 Performance, sportiva sì, ma anche raffinata e rifinita, alla francese. Una prova tra mare e monti che ha evidenziato tutte le sue qualità. Basta girare la chiave per far scattare l'amore. La versione Performance amplifica tutti questi valori sottolineando negli aspetti sportivi. L'assetto è rigido quanto basta, senza diventare mai estremo come su molte concorrenti. Carreggiate allargate, assetto ribassato, freni maggiorati e cerchi da 18 pollici. Tutto concorre a rendere questa DS3 diversa da tutte le altre, ma pur sempre DS al 100%. Che si tratti di una vettura speciale, lo si percepisce anche dei suoi interni che sembrano cuciti addosso come un abito sartoriale. Sotto al cofano il 1.6 THP da 208 CV è una garanzia di sportività. Scatto da 0 a 100 in 6 secondi e mezzo e velocità massima di 235 orari. Ma è poi guidando che si apprezza il suo modo tutto DS di esprimere il concetto di performance. DS3 Performance, lusso e raffinatezza con le bollicine.